Ecco nuovamente in campo Francesco Rutelli, non da candidato, questa volta, ma da sostenitore. Da tempo lontano dalle luci della ribalta, l'ex sindaco di Roma è giunto nella mattinata di ieri a Vibo Valencia, dove ha incontrato dirigenti e candidati del raggruppamento di liste che correranno alle prossime regionali, sotto le insegne di Calabria in rete, espressione delle istanze di campo democratico, un laboratorio politico a cui hanno da tempo aderito Franco Bruno e Pietro Giamborino. L'obiettivo sarà quello di superare la soglia di sbarramento fissata al 4%, un muro che verrà abbattuto senza alcuna difficoltà a sentire l'ex primo cittadino della capitale convinto della necessità di tornare a puntare su turismo e cultura. Io penso che il turismo e soprattutto la cultura, che sono all'ultimo posto, nonostante tante parole, debbano essere valorizzate. Nel 2015 io verrò con la collaborazione della nuova giunta di Oliverio come volontariato da italiano, da cittadino che vuole sostenere questa terra per favorire l'attivazione di risorse, di energie oggi sprecate per la cultura, il turismo e per la creazione di occupazione e di sviluppo legate a questi settori in Calabria. Lo farò perché questa terra non può essere lasciata indietro, io sono stufo di incontrare i calabresi a Roma.